e ciao a tutti amici e come promesso come avete visto dal titolo siamo qui per parlare della macro del braccio robot o robot arm come preferite e ho veramente passato ore di programmazione per sistemare al meglio questa macro che potete andare installare sulla f library che adesso vi faccio vedere subito il funzionamento cioè come si fa a sistemarla in timeline e come si fa a utilizzarla quali sono i comandi e poi vi farò vedere alcuni particolari quindi quando siete nella edit page andrete in effetti library dopo andrete in generator generatori scorrendo e troverete subito ecco qua braccio robot fa e ne avete anche una seconda poi installate quella che desiderate braccio robot nc che differenza c'è io vi faccio vedere la prima che quella più completa voi la portate in timeline è una clip di cinque secondi ma potete ingrandirla allungarla quanto volete perché in pratica se voi andate a vedere non c'è nessuna animazione e ecco qua che il braccio robot in tutta la sua bellezza è stato completamente ridisegnato in vettoriale e quindi non c'è bisogno di avere i file i file sono integrati nella macro di fusion come sono stati ridisegnati con ipad praticamente quello lo rende sicuramente un po pesante ma vedrete che nemmeno tanto rispetto a tanti effetti che si possono trovare in commercio quindi cosa bisogna fare per muovere questo braccio robot per animarlo semplicemente clicchiamo e come vedete qua da inspector si aprirà direttamente un effetto che si chiama braccio robot eccolo qua infatti spegnendo qui andremo a spegnere il braccio robot vediamo i comandi che si trovano che sono pochi e semplicissimi tra l'altro tutti in italiano quindi abbiamo subito un flip ho lasciato flip perché era l'unica parola breve in più e con questo controllo c'erano alcuni problemi con le icone perché vedete però se mettete orizzontale verticale si capisce benissimo e flip si intuisce anche dal disegno cosa fa semplicemente cliccando ruoterà il mio braccio robot dell'altra parte cioè lo flipperà e lo stesso qui sotto sopra perché potrebbe essere un braccio a soffitto ok lasciamo la normale questa diciamo alla posizione di riposo abbiamo la posizione invece xy sullo schermo vedete che poi incominciano i comandi in italiano ho scritto proprio posizione e non center come scritto di solito quindi con questo potete spostarlo abbiate pazienza perché non è reattivo immediatamente ma vedete va un po a saltelli perché lo deve calcolare al momento diciamo poi qui abbiamo la dimensione quindi se a voi serve il piccolino grande potete fare quello che desiderate vedete potete anche entrare dentro e quindi anche fare delle animazioni in zoomata quando spostate un controllo come i normali controlli c'è anche il pallino per riposizionare dove non c'è il pallino sapete che basta cliccare due volte sulla scritta per risettare all'inizio poi troviamo un angolo che in teoria non dovrebbe servirvi io l'ho lasciato ma è un angolo di perno sulla base che è fissa quindi se voi ruotate vedete che ruota lì però io l'ho lasciato perché comunque un comando in più è sempre in italiano poi troviamo snodo 1 e i numeri i bei imparateli così ho anche avuto un attimo di difficoltà a creare questi comandi snodo 1 abbiamo uno slider non è fatto angolo perché io preferisco questi perché questi secondo me sono più pratici lui ha una posizione di riposo dritto così e poi qua possiamo spostarlo vedete che ruota da una parte e dall'altra e qui ho già fatto un bel lavoro perché quando voi lo tirate al massimo vedete che lui va giù in questa posizione ma non fa più che si sormonta e ruota tutto attorno stessa cosa dall'altra parte il braccio può fare tutto il giro ma non vedete che sbatte contro l'altro braccio e non va oltre non può ruotare libero 360 gradi in più cliccando qui lui ritorna in posizione di partenza di riposo chiamiamola così poi abbiamo il secondo snodo che è questo quello che lega il primo al diciamo alla base anche qui stessa cosa lui è libero di ruotare ma fino a che non arriva a toccare la sua base e si ferma e dall'altra parte lo stesso lui ruota finché tocca la base vedete ho messo dei vincoli e qui anche qui cliccando ritorna sulla posizione diciamo chiamiamola di riposo poi abbiamo il braccio delle pinze il braccio delle pinze è inteso questo questo terzo segmento quindi ruotando qui possiamo ruotare stessa cosa anche qui ha dei vincoli per cui vedete può arrivare al massimo a questa posizione e dall'altra parte può arrivare al massimo a questa posizione non andrà a sbattere sul braccio in più anche qui alla sua posizione di riposo premendo il pulsantino mi sembra di aver fatto un bel lavoro insomma poi abbiamo ruota pinze ho voluto creare anche un oscillazione qua che potrebbe essere carina animarla o comunque ci permette di muovere un pochino di più la pinza ruota pinze infatti vedete che andrà a ruotare la pinza da questa parte e vedete anche qua che si blocca non è libero di ruotare sopra l'animazione e dall'altra parte e come dire anche qui ha la sua posizione di riposo apri pinze beh si capisce cos'è alla posizione di riposo qua in fondo con la pinza chiusa e ovviamente possiamo andare aprire la pinza che anche qui si fermerà quando è in questa posizione di apertura massima vedete molto carino e ovviamente anche qui alla posizione di riposo che qui chiusa al centro ovviamente tutti questi parametri vedete il rombo sono animabili per cui spostandovi lungo la clip potete animare qualsiasi cosa ad esempio se io voglio fare aprire chiudere la pinza posso partire da una posizione vado a cliccare il rombo di apertura pinza mi sposto nella nella timeline qui faccio avanzare un po poi ovviamente devo stare attento al keyframe e vado adesso aprire la pinza mi sposto un altro pone in keyframe e andrò a richiudere la pinza e così via e ovviamente qua è stata registrata vedete l'apertura e la chiusura ricordatevi che siano un po pesante deve renderizzare per vederla in tempo reale e quindi di fare attenzione ai ai tempi che date qua perché ovviamente sarà molto più fluido e veloce una volta renderizzato quindi vediamola adesso che renderizzata vedete che si apre e chiude l'ho fatto un po lento però l'animazione è fluida un'altra cosa che ho fatto in questo primo macro che si chiama fa da francaverso ovviamente e aggiungervi in colore perché questo è il colore di the fall senza toccare i nodi che avrei dovuto toccare tutti i nodi di background eccetera eccetera ho preferito semplicemente mettere una color correction quindi qua potete deregolare master shadow mitone e lies tutto quello che volete e un attimo oggi devo farvi una pinza azzurra eccolo qua vedete e ovviamente qua sotto avete qualsiasi controllo come colore saturazione quindi se io voglio una pinza in bianco e nero grigia perché metallo eccola qua oppure se io voglio una celeste più saturo celeste verde diciamo fatto attenzione invece quanto riguarda contrasto gain lift gamma e bright perché andrete a toccare qui c'è un canale alfa ora ve lo faccio vedere andando a inserire magari una clip andiamo a posizionare sotto sarà un po strano ecco adesso qua il colore un po particolare ma io volessi scurire la pinza non devo agire su contrasto gain lift ma a giro su gamma perché come detto altrimenti andrò a intaccare il canale alfa guardate su gamma posso tranquillamente vedete scurire e schiarire la pinza un po posso farlo anche con contrasto e gain però vedete che sto andando a toccare anche il canale alfa che vado ad aggiungere un bianco a tutta l'immagine perché come agisce e questo parametro va però potrebbe essere anche un effetto se voi fate reset ovviamente tornerete con la pinza normale ovviamente la pinza prende diciamo più più visibilità su immagini meno caotiche quindi attenzione agli sfondi che inserite tra l'altro comunque qui avete completo menu anche di live visto grammi suppress e qua avete le scelte avete metto e highlight per cui anche ad esempio poi mi non potete andare a agire sul sul colore vedete cambiare in un attimo il colore della pinza ecco qua diciamo è tutto e poi con i setting potete fare quello che desiderate come una clip normale sulla composizione quindi anche creare un cropping eccetera eccetera perché questo è il settaggio normale di da vinci l'altro effetto cioè braccio robo nc vuol dire semplicemente non color cos'è è la stessa identica macro soltanto che come vedete è semplificata e non ha la correzione colore perché i comandi sono sempre gli stessi che abbiamo visto perché tutto sommato forse risulta più leggera un pochino più veloce da renderizzare e ricordatevi che queste macro che adesso abbiamo richiamato semplicemente dall'inspetto c'è dell'inspetto lo abbiamo richiamato dalle felabri come vedete e indica che è una comunque una fusion quindi se entriamo in fusion da qua possiamo fare qualsiasi cosa perché qui ci ritroveremo i miei comandi e in italiano e qua potremo andare a mettere qualsiasi nodo quindi se noi volessimo comunque una color potremmo mettere un nodo di color e vedete possiamo fare la stessa cosa con un nodo separato ma se noi vogliamo ad esempio un soft glow attenzione che già questo è pesante per cui qualsiasi cosa aggiungete ecco qua il soft glow sembra una pinza luminosa adesso invece quello che vi consiglio da qui è molto carino come cose che si possono aggiungere è uno shadow che sarebbe l'ombra è questa qui non sceder ma shadow la aggiungete e da qua potete scegliere vedete lo spostamento dell'ombra e anche lo spostamento nel x y diciamo più soft e anche il colore dell'ombra ovviamente come viene sommata la distanza della luce vi consente proprio che se di qua andate a inserire un'immagine mettiamo la stessa caotica vedrete che la vostra pinza si stacca molto meglio avendo un'ombra di fondo quindi diciamo è una possibilità in più e da qua comunque questo è la macro ma potete andare a fare qualsiasi cosa mi sembra una cosa veramente carina ovviamente io la darò agli abbonati voglio solo farvi vedere cosa c'è alla base di questa programmazione quindi cancello un attimino qui ecco questo è solo per farvi capire cosa c'è all'interno di questa macro cosa ho dovuto strutturare insomma per cui qua in alto vedete ad esempio c'è la definizione dei disegni ognuno di questi di questi qua vedete si apre guardate che programmazione all'interno di nodi per creare il disegno come avevamo visto l'altra volta per ognuno di questi guardate cosa c'è per quello può risultare un po' pesante poi ognuno di questi è concatenato con questi controlli guardate qui ad esempio apri pinze e vedete che apri pinze ha un suo controllo in italiano che ho creato io e collegato all'angolo dell'apertura delle pinze quindi vedete una cosa complessa perché alcune cose proprio come apri pinze fa ruotare i controlli perché deve aprire le due tenaglie ecco io non voglio spiegarvi questa programmazione però vedete che è una cosa abbastanza complessa e poi vedete che appunto ognuno ha uno slider nuovo con il comando in italiano che viene agganciato un giorno vi farò vedere su una cosa molto più semplice avevo pensato di creare un semplice chuck e insegnarvi a creare questi controlli vostri che vanno agganciati a controlli già esistenti o cambiare nome a controlli già esistenti ma questo lo vedremo ecco era così per farvi capire l'impegno che ho dovuto mettere e visto così non è nemmeno sembra nodi e basta ma entrando all'interno di ognuno di questi ha tutta una programmazione come si installano queste macro che è la cosa che interessa di più allora scegliete quale volete provare io direi che intanto provate all'inizio quella senza la color che avete visto potete usarla quindi su mega sotto la cartella fusion troverete all'interno cercate braccio robot nc ok questo è il file diciamo dobbiamo copiare questo file dove ora ve lo faccio vedere voi dovete andare sulla fd library cliccate fd library e avete queste quattro voci voi andate su template ok si divide in edit e fusion voi andate cliccate qui su questi tre puntini del menu e fate show folder e a questo punto si apre questa cartella che vedete praticamente questa dei template corrisponde a questa e avete edit e fusion noi dobbiamo copiarlo in edit perché perché è in edit che dobbiamo richiamare questa macro e la potete mettere dove volete io vi consiglio su titoli sui generatori io l'ho messa sui generatori quindi aprite generatori e qui potete mettere le macro è la stessa identica cosa ovviamente fare così andare già qui in edit generatori e poi cliccare qui e fare show folder perché vi troverete direttamente all'interno di questa black magic da vinci super fusion template edit generatori e semplicemente prendete il file che avete visto prima e lo trascinate qui poi dovete tornare sulla edit uscire dalla fd library e quando la riaprirete adesso vi faccio vedere come vi ho fatto vedere prima andate vedete che avete toolbox qui avete le transizioni video audio titoli andate su generatori e scorrendo troverete braccio robot se non lo trovate subito cliccate sulla lente e scrivete braccio semplicemente vi verranno tutte le voci con braccio adesso io le ho installate entrambi voi avrete solo questa vedete che anche scorrendo ci sopra vediamo già la nostra anteprima e come abbiamo visto prima la andiamo a posizionare proviamo a fare una prova che questo braccio si trascini dietro qualcosa vi dico un'altra cosa come vedete questa macro è collegata direttamente all'uscita perché ha già un proprio background ma nessuno vi vieta di ridarlo specie se siete in altre risoluzioni questa è stata generata in full hd quindi sganciate dal media out la macro fate così unite il background all'uscita e poi questo lo mettete qui così siete sicuri che background e prenda l'auto risoluzione proviamo a fare una pallina e fare che braccio riesca a spostarla è un po complesso come si farà si farà così innanzitutto dobbiamo programmare il braccio che faccia uno per ad esempio proviamo ad esempio proviamo a fare semplicemente che si abbassi apra la pinza e venga su quindi andiamo a attivare tutto fate così fate prima così se vi serve qualcos'altro durante la programmazione c'è tutto vi spostate ad esempio 25 frame e abbasso lo snodo questo vedete che devo posso ruotare questo braccio qui e farò aprire la pinza ecco posso andare anche più più giù se volete fare movimenti fini vedete che potete invece muovere lo slide e entrare dove c'è il numero ok facciamo così e facciamo richiudere un po' la pinza come a raccogliere qualcosa lasciamo un attimo fermo lì basta a muovere appena appena e poi qui abbiamo fare un altro keyframe fate sempre di keyframe più ci spostiamo e alziamo questo snodo così da qui possiamo ruota pinze fermare un attimo così e qui possiamo ruotare un po' le pinze in giù come avere un peso vediamo cosa abbiamo fatto non è detto che sia corretta va giù apri chiude sta un attimo ferma e viene su ok e questo l'abbiamo fatto adesso dobbiamo creargli una pallina e andarla a tracciare quindi con un altro background mettiamo un colore ad esempio una pallina rossa lo colleghiamo eccolo qua come facciamo a fare una pallina mettiamo una maschera facciamo così stringiamo 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 a fare la pallina e ovviamente andremo a posizionarla nel punto che lui qui chiudete qui ok vediamo ecco quindi l'ellisse resterà sempre lì ma resterà lì anche quando poi la pinza si alza allora come fare che la pallina se qui è la nostra pinza la vada a prendere e se la porti dietro con il tracking ora ve lo faccio vedere è abbastanza semplice allora vedete che ho rovesciato messo qui la pallina con il transform e qui il braccio robot perché perché così quando arriva lì chiude le pinze si sormontano sopra la pallina se la pallina era di qua le pinze finivano dietro la pallina così è più carino che la pinza si vede davanti alla pallina perché sembra che l'abbia presa ok poi la cosa importante è tutta identificare allora poi con il transform posizionare il pivot in centro la pallina vedete fate così e posizionate il pivot che sia in centro alla vostra pallina questo è importante per i movimenti della pallina andiamo a dove la pinza arriva e chiude ok e con questo transform posizioniamo la pallina dove dovrà trovarsi nel momento poi andiamo proprio dove la pinza chiude e da qua ovviamente lei partirà in su quindi ci portiamo qui andiamo sul braccio robot shift barra spaziatrice e cercate planar tracker andiamo a aggiungerlo il planar tracker è un tracker che andrà a tracciare un punto lasciamo tutto così l'unica cosa su motion type andiamo a mettere translation perché a noi non importa la rotazione per il momento ci importa la pinza è in questa posizione qui quindi andiamo a settare questo punto qui adesso dovete fare set e non spostatevi da qua col cursore perché andremo a tracciare la parte in avanti quindi clicchiamo qua e vedete che viene tracciata quella parte perfetto lo possiamo anche lasciare finire lasciamolo pure finire tutto eccolo qua adesso facciamo crea planar transform e avrà creato questo nuovo nodo questo possiamo sganciarlo shift e lo sganciamo possiamo buttarlo anche via questo nuovo lo mettiamo sotto il trasformo della pallina mi raccomando quindi sganciate qua entrate qui e da qui entrate al merge cosa succederà qui vedete non c'è trekking quindi la pallina resterà ferma nella sua posizione da qua incomincia nei punti di trekking quindi la pallina sarà costretta a seguirli vedete perché sta muovendo il trasformo andiamo a vederlo in tempo reale tempo reale con il render del cachet di diffuso e vedete ecco l'unica cosa che se ruota la pallina non ruoterà quindi o sul trek raggiungete anche la rotazione eventualmente non fate il trekking in questa zona ma ci vorrebbe un punto centrale di ancoraggio eventualmente lo studierò io di fare apparire un punto in questa zona che voi potrete tracciare per il momento divertitevi così bene io spero di aver fatto qualcosa di veramente simpatico e ricordo a chi non è abbonato e dice ma io non sono abbonato non avrò questa pinza fate lo sforzo di abbonarvi un euro e 99 potete restare abbonati anche solo un mese e quindi scaricarvi la pinza come altre cose che ho fatto e magari dal mese successivo togliervi dall'abbonamento se non vi interessa ma come vedete io sto dando sempre più cose agli abbonati tutte le prove che io faccio le trovate anche se tante volte non le dico le trovate all'interno della cartella fusion di mega per cui io vi ringrazio di avermi seguito ditemi se vi funziona se lenta eventualmente poi la svilupperemo in seguito per farla sempre più funzionare diciamo questa e 2d si potrebbe fare anche 3d però 3d incomincia secondo me a diventare veramente pesante perché è il calcolo diventerebbe ancora più complesso grazie e mi raccomando lasciatemi molti commenti che mi servono per feedback ciao